Ben trovati nel canale Yardforex, io sono Arduino Schenato e questo video è per fare una discussione, una chiacchierata, diciamo una riflessione a voce alta riguardo alcuni temi, alcune cose che vedo, alcune situazioni, alcuni temi molto importanti nel trading. E quindi così, a ruota libera, volevo fare questa chiacchierata molto riflessiva e vorrei quindi anche che se vi va e se vi sentite di commentare quello su cui andrò a discutere perché credo possa essere sicuramente interessante anche per me per magari fare poi successivi video, prossime live, dedicate anche a qualcosa che arriva da qualche vostro commento. Allora, il topic su cui io oggi volevo andare a riflettere, a discutere con voi riguarda un tema importante che è l'entrata nel trade, l'entry a mercato. Quindi le strategie, le metodologie che ci permettono di fare un'entrata a mercato sono davvero la cosa principale e più importante per far sì che il trading poi diventi nella realtà un'attività profittevole in modo costante? Credo che un po' tutti noi ce lo siamo chiesti, chi fa trading da meno tempo probabilmente forse, non lo so se ancora è arrivato a questo punto, chi fa trading da molto più tempo probabilmente c'è già passato e forse ha già capito che la risposta è che non è la metodologia di entrata che ci fa essere poi più profittevole, ci fa avere più risultati positivi nel nostro trading. Però se noi guardiamo il web, i social, vediamo YouTube, io stesso spesso parlo di metodologie di entry, seppur sempre condite dal fatto che la metodologia di entry è una parte del processo e dell'operatività di un trader. E non è tutto, però in generale se io oggi vado a sfogliare YouTube, che è il social un po' più, come dire, dove si vengono a trovare più gli argomenti, dove ci possono essere corsi, webinar, cose di questo tipo, nell'ambito trading sia in lingua inglese che in lingua italiana, devo dire che c'è quasi esclusivamente questa ricerca della strategia dell'entry migliore che possa creare il miglior vantaggio per un sacco di motivi. Quindi non c'è altro, se vogliamo, c'è molto poco. Se mi si chiede, secondo te, una strategia rispetto a un'altra può far guadagnare di più il trader, io vi dico di no. Perché? Perché, a mio avviso, ogni strategia di entrata stiamo parlando, quindi la strategia proprio per entrare a mercato, ognuno la può far diventare profittevole. Quindi sicuramente ci possono essere metodologie di entrata, strategie di entrata, che permettono di essere, come dire, più in timing col mercato. È ovvio che se io vado a studiare personalmente la struttura di mercato, io facendo price action naked, io non utilizzo nient'altro che il prezzo, quindi non uso nient'altro che il prezzo, utilizzo time frame grandi, faccio un'operatività che negli anni, tantissimi anni, su cui io faccio mercato, faccio trading da tantissimi anni, quindi ho evoluto anche determinate cose. Però sicuramente le basi sono rimaste, l'entry so quando deve essere fatta e c'è un timing, come poi tutte le strategie, no? La strategia di entrata principalmente può dare un timing. E ci si focalizza, no? Su tutta questa formazione, su quella roba lì. Cioè, se voi pensate, questa qui è la strategia, oppure la tipologia di trading di quel tipo migliora, è la migliore. Perché migliora l'operatività? Ma perché la migliora? Perché entri meglio? Io non sono del tutto d'accordo, dopo 18 anni di mercati, ragazzi, io su questo sono abbastanza in disaccordo, anzi, totalmente in disaccordo, perché? Perché sicuramente l'entrata con un timing buono aiuta, ma vi assicuro che io spesso, quando entro a mercato, non subito la posizione va dalla parte che deve andare. A volte sì, a volte succede, a volte no, dipende. Ma non è quello che mi fa essere migliore, non è quello che mi fa fare i trading migliori, mi fa essere costante nel trading. Bisognerebbe focalizzare di più l'attenzione sul modo di gestire la posizione che passa per l'approccio mentale, e quindi poi comportamentale, che si ha nel trading. Se con la stessa tecnica, io e te che stai ascoltando, entriamo nello stesso modo, e poi ci allontaniamo e ci vediamo tra tre giorni, molto probabilmente il risultato finale del mio trade sarà diverso dal tuo trade. E quindi, detto questo, è davvero così fondamentale la strategia di entrata? No, è importante, dà il timing corretto, ma non è fondamentale. Ciò che è fondamentale, appunto, abbiamo detto, che è la gestione. Ma la gestione non è che è un qualcosa di automatico. Se noi facciamo trading indiscrezionale, non è un qualcosa di automatico. è un qualcosa che passa per uno studio introspettivo di come noi andiamo a percepire determinate emozioni che ci derivano da determinati movimenti dei prezzi e ciò che noi vediamo come realtà dal grafico o da quello che è il mercato, che non è per forza la realtà di un'altra persona. Voglio dire, io cerco di, nell'esperienza che ho avuto, una volta che entro adesso, di andare a prendere l'input che mi arriva, che può essere un'emozione, nel senso, il mercato magari, io mi sono messo in acquisto, il mercato sale, e quindi può essere l'emozione di dire cosa faccio adesso, chiudo, rimango, aspetto il target se c'è, aspetto il livello, un sacco di cose. Oppure, mercato che entro long, entro in acquisto, e questo scende, potrebbe arrivarmi il timore di perdere di più, l'indecisione di dire chiudo ora o aspetto magari il punto dove ho posizionato lo stop, o aspetto qualsiasi altra cosa. Insomma, ci sono determinate situazioni che si vengono a creare e spesso queste vengono anche a crearsi dando un impatto emotivo a quella che è poi la vita del trade. Ecco, questo è quello su cui noi dobbiamo lavorare di più, quello che è poco pubblicizzato, quello che è poco condiviso, è trasmesso anche perché è più difficile parlare di questo e, capite, passatemi il termine, vende meno, cioè questo video probabilmente lo guarderà a molta meno gente di un video con la strategia che mi ha fatto fare 4.000 euro in due giorni, o anche peggio, o altri topi di questo tipo, no? E soprattutto la capirà chi magari è sul mercato da svariati anni. È più facile che succeda questo. Detto questo, quindi, come faccio, come si deve fare? Ovviamente si deve, come ho detto prima, lavorare un po' su se stessi, cercare di capirsi di quali sono un po' i comportamenti che abitualmente tendiamo a fare in determinate situazioni, studiarli attraverso un diario di trading, magari quindi andando a scriversi le proprie decisioni operative, i motivi, i processi decisionali che ci hanno fatto fare una determinata azione e da lì capire se quella determinata azione, in effetti rivedendola, ha senso, per essere funzionale, all'obiettivo del fare la cosa migliore in quel momento. Che non è per forza poi, guardandosi indietro, la cosa migliore col senno di poi, perché col senno di poi siamo tutti bravi. È la cosa migliore in quel momento preciso che il mercato ci mostra una determinata cosa. Questo è quello di cui io ovviamente sto parlando. Quindi non c'è un giusto o sbagliato, non c'è un'azione perfetta sempre, non c'è neanche un automatismo, se vogliamo, che noi possiamo adattare al nostro trading discrezionale. Però c'è questo studio, questa riflessione, questo rallentare in base a quello che noi viviamo e ci fa fare poi delle azioni, che va compreso e va cercato di migliorare. Quindi, voi tutti, noi tutti, io dico noi tutti, ma io queste cose qua ormai non le ho mai fatte praticamente da anni, però andiamo tutti alla ricerca della tecnica di entrata, della strategia o del mercato che è migliore o di questo o di quello. Quindi c'è la fazione analisti tecnici, la fazione analisti fondamentali, la fazione non si può fare trading solo con la price action o si bisogna fare per forza trading con i dati fondamentali più l'analisi tecnica oppure adesso ci sono i volumi o tutte queste robe qua, i cicli, possiamo mettere qualsiasi strategia, tutti vanno alla ricerca della strategia perché quella roba lì è la migliore, poi in realtà, come abbiamo detto prima con l'esempio che se dieci persone, io e te ci mettiamo a fare un trade identico allo stesso modo, con la stessa tecnica, nello stesso timing e poi ci allontaniamo per qualche giorno e ci rivediamo, probabilmente avremo gestito bene la diversa perché è un trading discrezionale, diverso si parla di sistemi ma io poi qui ho una mia idea sui sistemi non voglio neanche adesso andare a approfondire questa idea, idea vissuta anche perché comunque ho avuto anche un'esperienza di questo tipo, quindi il bravo trader per me, il bravo trader discrezionale batte il sistema dieci a zero, dieci a uno, quindi questo per me è un topic che non ha senso, però ecco, l'idea è proprio quella lì, invece di focalizzarsi su quello, dovremmo focalizzarsi sull'entrata, sulla strategia d'entrata, dovremmo più focalizzarci su bene, la strategia d'entrata, il tipo di strategia, i mercati che sto guardando, i time frame, quindi la fascia temporale d'azione, tutto quello che riguarda un metodo, fa parte un po' del mio carattere, è un qualcosa che riesco a sostenere, è un qualcosa che mi fa essere rilassato, tranquillo, sicuro, bla bla bla, bene, da lì poi, una volta che imparo bene la parte, quindi acquisisco bene le competenze tecniche di questo, dovrei concentrarmi e cercare di andare a veramente studiare bene tutto quello che è me stesso, i processi decisionali, che cosa mi fa fare determinate azioni, che cosa non me le fa fare, il cercare di non avere la presunzione di prevedere il mercato, perché se noi andiamo a cercare la strategia, le strategie, la tecnica di entry, che è quello che cerca il 99% delle persone, che viene proposto, in realtà, noi andiamo a fare il grande errore di pensare, di prevedere il mercato. in realtà, io credo, per la mia esperienza, che il lavoro del trader discrezionale, il lavoro del trader, sia quello di andare a non prevedere il mercato, ma di pianificare in base a un metodo, e fare quindi determinate scelte in base al metodo che ha, e quindi è un pianificare, e gestire il piano, nel momento in cui si è entrato in posizione, in base a quella che è la tua metodologia. è diverso che prevedere, quindi sicuramente nel momento in cui poi andiamo a fare un discorso di cercare l'entry, perché la strategia è ciò che conta, quella roba lì è peggio di quella, che nel trading, io ve lo dico, oggi dopo tantissimi anni, per me non esiste questa cosa, tutto può essere buono, se fatto in un certo modo, ovviamente adesso io dico tutto, poi ci sono anche strategie che ovviamente non vanno prese in considerazione, ma le cose un po' più sane, importanti, buone, possono essere tutte profittevoli, bisogna farle diventare profittevoli, quindi se noi già, però ci partiamo dal fatto che cerchiamo la migliore strategia, perché deve prevedere il mercato, quindi non farmi perdere mai, o farmi perdere poco, stiamo già andando nel campo della previsione, nel campo dell'aspettativa, che è una cosa che purtroppo, se la inseriamo nel trading, e noi purtroppo abbiamo questo bias cognitivo, che è il bias dell'aspettativa, che tante volte anche un po' inconsciamente ce l'abbiamo, nel momento in cui andiamo ad acquistare euro-dollaro, ci aspettiamo che se acquistiamo a 1.05, questo debba andare a 1.07, in realtà non dobbiamo aspettarci nulla, noi dobbiamo fare il trade, perché ci ha detto, la nostra metodologia ci ha detto, che in quel contesto, è più probabile che il mercato possa continuare a salire, e quindi faccio e applico la mia metodologia, andando a comprare, ma con nessuna aspettativa, sul fatto che il mercato possa arrivare là, perdiamo tantissimo tempo, a fare analisi sui target, meglio qui, meglio là, meglio su, meglio giù, e utilizziamo pochissimo tempo, a capire dove in realtà stoppare, inserire il massimo rischio, e quindi dove la figura, la fotografia viene a cambiare. Ovviamente ho detto prendiamo, facciamo, cioè mi sono inserito dentro, però io sono cose ovviamente che non faccio queste. Però è questo, quindi dovremo cercare di cambiare, dovrete, dovreste cercare di cambiare il vostro mindset, a questo punto, e quindi il vostro approccio al mondo del trading, perché l'approccio che ha nell'attivarsi, nel cercare, nello studiare questo mondo, è l'approccio sbagliato. L'approccio corretto è quello, sì, di studiare, ma non di andare poi in qua in là, alla ricerca infinita, spasmodica, di trovare il sacro gral, la migliore entri, la migliore strategia. Tutti cercano quello. Poi ci sono le mode, adesso va di moda una cosa, poi di un'altra, io le ho viste, sono sempre... il problema è che quella roba lì poi serve fino a un certo punto, cioè serve, serve, io faccio price action, studio la struttura, c'è chi fa altro, quindi serve avere una modalità di osservazione dei mercati, è ovviamente importantissimo, non sto dicendo, ma poi i risultati la fanno per lo più come noi gestiamo noi stessi e quindi le nostre azioni quando siamo sui mercati. Quando stiamo con una posizione da un lotto su euro-dollaro che ci sta guadagnando 100 pips, 1000 dollari in 5-6 giorni, dobbiamo cercare di capire se quei 1000 dollari che stiamo guadagnando possono diventare 2000 o 1500 o potrebbero iniziare a diventare meno. E cosa facciamo? Dobbiamo avere una modalità, gestirci un trade che arriva ad avere 100 pips di guadagno, 1000 dollari di guadagno, di euro-dollaro, non dovrebbe tornare in perdita. Ci sono un sacco di variabili, no? Però noi magari rimaniamo legati a un target che abbiamo che è 200 pips sopra o 50 pips sopra e quindi l'aspettativa del target, il voler prevedere il mercato che deve per forza arrivare là non ci fa più vedere che gestiamo male la cosa. Oppure perché nel trade o nei trade precedenti abbiamo fatto dei profitti e allora magari siamo più così, aperti a lasciare andare senza gestire. O addirittura è il contrario, il fatto che magari arriviamo da uno, due, tre trade in perdita prima e magari abbiamo una gestione che non è funzionale. Quindi ogni trade deve essere un trade a sé stante. Non ci deve essere quello che c'è prima, non c'è. Non esiste. Qua ovviamente, io adesso sto parlando da 20 minuti, vedo però, sono tutte queste dinamiche, queste cose su cui vorrei farvi riflettere. Si possono fare anche ulteriori video su questo, anzi, vi chiedo volentieri se avete magari facendo qualche riflessione sui temi che vi ho proposto quest'oggi. Magari mi date qualche input se ne può discutere, però vorrei puntare l'attenzione che voi puntaste l'attenzione sul fatto, bene, ho una metodologia tecnica quindi a livello operativo che mi fa stare bene, che è una buona operatività a livello quindi tecnico, ripeto, esula della strategia, non mi interessa, non mi interessa che per entrare a mercato usate la macroeconomia. va bene, può anche essere quello, anche se sappiamo che la macroeconomia ragiona per razionalità i mercati, lo sono poco, ma potrebbe anche essere quello, bene, adesso bisogna, entro su un trade perché me l'ha detto la macroeconomia, facciamo un esempio, adesso sto dicendo proprio una cosa, adesso bisogna gestirlo, è lì che dobbiamo lavorarci su, quindi, oltre al timing d'ingresso che lo dà la strategia e quindi tutti questi grandi bravissimi trader che danno questi spunti, benissimo, poi come si gestisce l'operazione? Non c'è un modo univoco, generale per tutti, c'è il singolo trader che fa l'esperienza, che deve studiare se stesso, che deve gestire i suoi input, creando degli output che possano essere funzionali all'obiettivo, ovvero il fare buon trading, che non vuol dire per forza far sempre profitto, un buon trading significa anche a volte chiudere in perdita le operazioni, un buon trading è questo. Penso che abbiamo detto un po' tutto, penso che ho sviscerato un po' quello che era il mio pensiero di quest'oggi, quindi non mi resta altro che ovviamente chiedervi di lasciare un commento, ripeto, le vostre riflessioni anche mi fanno creare qualche spunto nuovo per fare ulteriori nuovi video, di lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale ovviamente se non siete iscritti, fate un po' di network, quindi fate conoscere questo canale a più persone possibili, se fate trading e vi piace questo contenuto. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona continuazione e un buon trading simple. Ciao a tutti, da Arduino Schenato, Yearforex.